Siamo con il presidente Giuseppe Pasini al termine di Feralpi Salò Fano 2 a 1 contro il Fano nella scorsa stagione, un solo punto in due partite, questa oggi è arrivata una vittoria molto preziosa, dopo due sconfitte consecutive serviva a ritrovare punti anche per il morale, anche in vista dei prossimi appuntamenti molto difficili contro Vicenza e Pordenone. Sì, diciamo che oggi portiamo a casa i tre punti, questa vittoria sotto l'aspetto del gioco forse abbiamo fatto qualcosina di meno rispetto alla personalità, alla gestione del risultato, a quello che abbiamo dimostrato giù a San Benedetto, anche se l'abbiamo perso in maniera immeritata. Portiamo a casa i tre punti, fiduciosi, abbiamo una partita difficile domenica a Vicenza contro una squadra che è stata costruita per vincere, però i ragazzi, visto che anche noi abbiamo costruito una squadra per vincere, dovranno dimostrare di saper far bene anche a Vicenza. Se sapremo, se avremo un pizzico di fortuna in più rispetto a quello che abbiamo avuto a San Benedetto e sapremo avere la stessa personalità, lo stesso gioco, credo che a Vicenza ce la possiamo giocare. Ovvio, oggi ho visto una squadra che in qualche momento è andata un po' nel panico, ecco, è vero, abbiamo preso il gol dopo i primi 45 secondi, per cui è squadra che aveva bisogno di fare, questo sicuramente ha un po' pregiudicato il rendimento, però sul 2-1 forse una gestione migliore andava fatta. Sotto di un gol dopo 40 secondi, poi ci ha pensato sempre, come sempre, Simone Guerra, 5 gol in 4 partite, una menzione particolare per lui? San Simone direi, sì, un ragazzo molto serio, un ragazzo che sta lavorando con tanta serietà, umiltà, da grande professionista che è, l'abbiamo fortemente continuato con lui, l'abbiamo fortemente voluto questo giocatore, continuato questa avventura, la fiducia la sta ripagando, 5 gol in 4 partite, insomma, la dice lunga sul suo rendimento. Si completa positivamente una bella giornata iniziata questa mattina con l'inaugurazione dell'area Hospitality Cuore Verde e Blu, anche questo ovviamente è un segno di quanto la Feral Pisalò si impegna anche nei confronti delle strutture, continuando a crescere da questo punto di vista. Sì, stamattina abbiamo inaugurato quest'area Hospitality per i nostri amici, sponsor, soci, un'area, giustamente, un po' dove potremmo fare un po' più di conoscenza anche fra di noi. Era importante vincere anche per questo, ecco, visto che la prima in casa l'abbiamo persa, era importante anche dare questo giusto risultato a questo evento. Grazie.